Primo meeting della FIDAS Sicilia, uno dei giorni di approfondimenti e di confronto tra rappresentanti associativi e istituzionali sul sistema sangue regionale, sui rapporti con i servizi trasfunzionali e con le altre realtà associative. Si è svolto nel fine settimana al Sicania Resort. Tra i temi affrontati c'è stato quello relativo alla situazione e all'accreditamento con la razionalizzazione della rete di raccolta associativa. Si è parlato anche dell'accordo Stato-Regioni del 14 aprile scorso con la stipula delle nuove convenzioni e dei rapporti associativi nel rispetto degli ambiti territoriali. Sono tantissimi gli obiettivi raggiunti dalla FIDAS perché tantissimi sono i donatori che nei momenti più drammatici della storia di questo paese hanno veramente dato una grossa mano per salvare delle vite emane. Oggi come oggi il percorso delle associazioni che FIDAS rappresenta sul territorio nazionale e in particolare delle associazioni presenti qui in Sicilia sono quelle di aver costituito un gruppo e dei gruppi di donatori periodici responsabili e associati. Questo è l'aspetto più importante perché la donazione è un gesto gratuito, è un gesto anonimo, ma deve essere fatto con la consapevolezza che attraverso questo materiale biologico si fornisce appunto una terapia per i cittadini, chiunque ne abbia bisogno e i numeri ci confermano l'importanza di questo gesto. All'incontro sono stati presenti i vertici nazionali, regionali e locali della FIDAS. Il contributo del volontariato è assolutamente prezioso e indispensabile, soprattutto in un'altra realtà come la nostra, laddove l'80-85% degli emocomponenti driver, quindi mi riferisco soprattutto alle mazze concentrate, che sono quelle che noi utilizziamo per trattare i pazienti anemici e vengono raccolte dalle associazioni dei donatori volontari. Rappresentano lo strumento attraverso il quale vengono promossi poi quei valori solidaristici della popolazione generale che consentono di curare i pazienti assistiti. C'è anche un confronto con le istituzioni per verificare, nel nostro caso, quindi nel quanto riguarda la FIDAS Adas Gela, la possibilità di riaprire i centri di raccolta di potere di mazzarino che sono chiusi, ahimè, da oltre un anno, da quasi un anno e mezzo. Il fatto di poter riaprire questi centri consentirebbe all'unità ospedaliera di Gela, al presidio ospedaliera di Gela e comunque, però con le competenzioni a tutti gli ospedali della Sicilia, di poter avere delle sacche da poter lavorare, da poter destinare alle persone bisognose, le persone che hanno bisogno e questa comunque è la cosa principale. Ne approfitto attraverso i vostri microfoni di ringraziare i donatori Adas che sono molto vicini. La nostra unità di raccolta è sempre piena di donatori e non posso fare altro che ringraziare il grande cuore dei gelesi.